Ciao a tutti, oggi inauguriamo un nuovo format dal titolo sconsigli per gli acquisti perché vi proporrò degli articoli che ho acquistato personalmente e ho avuto modo di testare e che secondo me non sono validi ma anche degli articoli che ho trovato un po' in giro magari per il web o anche facendo la spesa nel reale e che trovo particolari se non proprio decisamente bruttarelli. Questo ovviamente secondo il mio parere perché come sapete i gusti non si discutono e quindi una cosa che a me può sembrare inutile, brutta o decisamente trash ad altri può piacere. E cominciamo subito, cominciamo con un articolo che ho trovato su Temu, con degli articoli che ho trovato su Temu per essere precisi perché ho cercato su Temu dove io acquisto solitamente oggettistica per la casa, cercavo un vaso, un vaso per dei fiori perché purtroppo tutti quelli che avevo disponibili sono stati distrutti dai miei pelosetti e quindi ne cercavo uno per appunto mettere dei fiori o anche mettere dei sassolini, mettere del putpourri, insomma ragazzi cercavo un vaso e me ne sono usciti tantissimi ovviamente perché come sapete Temu insomma ha veramente tantissima tantissima roba e ad un certo punto ho trovato un vaso per quanto riguarda i fiori veramente secondo me assurdo. Questo vaso è a forma di cuore ma non il cuore che siamo abituati a disegnare che vediamo nell'emoticon o il cuore delle cartoline di San Valentino, no un cuore cuore con tanto di vena cava superiore, arteria polmonare, aorta, insomma ragazzi un cuore veramente come devono essere i cuori. Veramente brutto da vedere secondo il mio parere, ancora peggio con i fiori infilati nelle varie cavità appunto della vene, della vena, della orta, insomma di queste cose qui. Però c'è di bello ragazzi, c'è di buono, se un po' di buono si può trovare in questo articolo, che è fatto veramente di tutti i colori. Quindi lo potete trovare rosso, rosso rosso proprio come se fosse veramente un cuore appena estrapolato dal torace di qualcuno o lo potete trovare bianco, lo potete trovare nero, lo potete trovare color oro, lo potete trovare rosa per chi piace, insomma per chi vuole qualche cosa di un pochettino più soft. E c'è anche di un fucsia però trasparente per coloro che vogliono guardare, andare oltre il cuore e vedere cosa c'è all'interno ragazzi. In questo caso ci sarebbe l'acqua perché se è un vaso appunto ci vuole l'acqua per i fiori. E niente, vediamo appunto le immagini di questi vasi che secondo me sono veramente, scusate, orripilanti. E ci si domanda chi si potrebbe fare un dono del genere. Allora io immagino che qualcuno possa anche piacere questo tipo di vaso perché insomma se continuano a venderlo probabilmente c'è qualcuno che lo acquista. Quindi nulla, e ribadisco, nulla contro chi acquista questo tipo di oggetti. Oddio, certo ci vorrei fare una chiacchierata però assolutamente nulla contro queste persone. Invece noi a chi potremmo regalarle? Allora possiamo regalarle ad esempio ad un amante dei film horror? Possiamo regalarlo ad un nostro zio d'America che magari ha tanti soldi che noi speriamo di ereditare perché se lo zio d'America si vede davanti una cosa del genere magari un mezzo infarto pure gli viene ragazzi. Immaginiamocelo questo regalo, questo vaso in una scatola con della carta velina bianca sotto. Ragazzi il gioco è fatto e un attimo che ereditiamo la fortuna di questo improbabile zio americano. Potrebbe essere invece un regalo abbastanza azzeccato per quanto riguarda magari un nostro cardiologo. Impacchettiamo bene il tutto ragazzi dopodiché ci scriviamo un bel biglietto con il cuore, per il mio cuore, dal mio cuore un cuore. Ecco così il cardiologo apre. Se non ci manda a quel paese ragazzi riteniamoci fortunati. Per quanto riguarda invece i regali da poter fare ad un andrologo o ad un ginecologo ci aggiorniamo nelle prossime puntate. Però ragazzi se a qualcuno non piace il cuore, questo cuore porta fiori ragazzi, quindi questo cuore che è un vaso, ci sono anche dei cuori portapenne, ci sono dei cuori che sono proprio delle statue, quindi ragazzi ce n'è veramente per tutti. Affrettatevi mi raccomando. Per quanto riguarda le statue a forma di cuore ne ho trovato due veramente impagabili. Ce n'è una di cui insomma c'è la foto in questo video in cui c'è un albero praticamente i cui rami sono delle mani che afferrano appunto un cuore e poi c'è la statua di una donna abbastanza scollacciata, il viso sembra in estasi e c'è questo cuore che le spunta letteralmente fuori dal petto. Dovrebbe essere una santa, dovrebbe essere la raffigurazione di una santa probabilmente, oddio tanto santa con tutto questo seno di fuori non sembra, però comunque questo è. Quindi ricapitoliamo, se vi piacciono le cose un po' così, un po' dark, un po' anche trash ragazzi diciamocelo, potete andare su Temu, mettete sulla barra di ricerca cuore e vedete quante cosine escono fuori. Ragazzi e questo è tutto per oggi, io vi ringrazio per avermi seguita, un bacione grande e mi raccomando fatevi sconsigliare per i vostri acquisti. Se volete lasciatemi un commento, se volete lasciatemi un like, se volete iscrivetevi al canale. Ciao, un bacione! Grazie! Grazie! Grazie!